I bambini italiani sono più di un milione, il record è in Campania dove uno scolaro su due è sovrappeso. Seguono tutte le regioni del centro-sud, regione Modello invece la Val d'Aosta. Sentiamo Ilaria Antonini. I bambini italiani sono tra i più grassi in Europa, ci batte solo il Portogallo. A lanciare l'allarme un recente studio elaborato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la pubblica istruzione. Questi i dati, il 23,6% dei bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni è in sovrappeso, oltre il 13% è addirittura obeso. Praticamente più di un milione di bambini è taglia extra-large. Ancora più impressionanti i dati regionali, in testa alla classifica La Campania, dove è obeso un bambino su due. Seguono Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Lazio. In pratica la più alta percentuale di bambini grassi abita nel centro-sud. Promossa a pieni voti invece la Valle d'Aosta, che ha il più basso numero di scolari in sovrappeso. Abitudini alimentari scorrette e poco sport, ecco le cause dell'obesità infantile. Lo studio rivela infatti che i nostri ragazzi mangiano male e si muovono poco. Il 13% salta la prima colazione, per poi fare incetta di pizzette e merendine a metà mattina. E solo uno su dieci pratica un'attività sportiva.